Ciao ragazzi! Oggi siamo al Museo delle Illusioni! Guardate che bellissimo questo stabile tutto strano! Siamo venuti per la festa del papà al Museo delle Illusioni! È stata un'idea di... Edo! Edo! E chissà cosa troveremo all'interno! Ciao mamma! Ciao! E se è già bellissimo così sarà ancora più bello dentro! Dai! Fra una mezz'oretta entriamo e vediamo cosa succede! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi questo è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale. Come è possibile, Cri? Ecco, Cristian. Ragazzi, guardate cosa succede. Questo è curvo e il pezzo è dritto. E ci passa. E' uguale. E' uguale. E' uguale. Giro veloce 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 Guardate questo tunnel In realtà Non è il tunnel Qui dietro non ce l'ho Vedete Vedete Non c'è niente dietro Ecco il tunnel Giro veloce Giro veloce Epervello Giro veloce Grazie a tutti. 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 E qui vedete un pezzo di triangolo e un pezzo di quadrato. Ecco Cristian che gioca a poker. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.